Sono Luisa, ho fatto l'apprendista falegname e ho fatto sei mesi di lingua e stage all'estero, programma Leonardo da Vinci in Irlanda, a Cork. Ho fatto all'inizio un tre mesi di corso di lingua intensivo, tutti i giorni scuola di inglese, che è filata molto liscia, alloggio perfetto, la famiglia era veramente molto gentile e tutto. E in seguito ho fatto tre mesi di stage in una ditta di costruzione di divani e arredamenti di interni. E qua sono un po' cominciati i problemi inizialmente perché non mi hanno trovato il posto di stage, malgrado con anticipo ho contattato la ditta, cioè la ditta, l'agenzia che offriva questo servizio. e solamente grazie all'intervento del servizio lingua e stage all'estero del cantone sono riuscita ad avere un contatto serio con loro. Il problema di questa azienda era che non si trovava a Cork, dove ero io, ma fuori in un posto che era quasi irraggiungibile con i mezzi pubblici. Quindi intervista via Skype, non ci sono, ci sono, rispondono o non rispondono, la linea salta, ma alla fine siamo riusciti comunque a risolvere. Sono stati tre mesi, un'esperienza fantastica, una ditta perfetta che non potevo trovare qualcosa di meglio, padrone molto simpatico e gentile, addirittura alla fine del mio periodo, quando stavo rientrando in Svizzera, mi ha proposto se volevo fare due giorni a Dublino a casa di suo figlio, senza dover pagare niente. Quindi penso che l'esperienza sia stata veramente positiva. Dall'Irlanda ho portato a casa che non in tutti i paesi si lavora come in Svizzera, che ti danno un termine per ieri, ma addirittura il capo era così felice che alla fine dei tre mesi di stage che ho fatto da lui, eravamo già avanti di tre mesi con il programma di consegna ai nostri clienti. Quindi è stato veramente molto positivo, molto arricchente a livello anche personale.